che si preannunciavano, hanno deciso e preannunziato che vorranno scendere in piazza comunque. C'è stato, adesso non ricordo il nome delle sigle, ma c'è stata una sigla anche molto importante, insomma rappresentativa del mondo palestinese e della difesa dei diritti palestinesi in Italia, che ha detto chiaramente che non scenderà in piazza e ha accettato il divieto che le autorità di pubblica sicurezza fanno, hanno fatto come invito a riprogrammare una manifestazione che fosse in qualche modo scevra da quei problemi che le autorità di pubblica sicurezza avevano individuato, quindi programmandola per il sabato prossimo del 12. E questo perché era chiaro che questo fine settimana, per essere vicino alla data del 7 ottobre e anche per il modo con cui erano stati fatti i preavvisi e preavvisate queste manifestazioni, era a forte rischio che fosse celebrativo di un eccidio che non è solo, vede, una cosa che le autorità devono censurare e rigettare per l'intrinseco disvalore che contiene un'affermazione di questo tipo, ma anche perché probabilmente di per sé stesso poteva essere stato valutato che potesse essere poi foriero di alimentazioni di turbative che potevano avvenire su piazza. Detto questo, per cui dico non tutti ci risulta che hanno stabilito che manifesteranno lo stesso, alcuni lo hanno preannunziato, vedremo, i numeri sono sotto monitoraggio di chi ha maggiore capacità e competenza, che sono gli organismi delle forze di polizia. Vediamo lo scenario che si realizza, chiaramente qualsiasi manifestazione che fosse in violazione di quel divieto sarebbe innanzitutto una manifestazione illegale, perché questo chiaramente, e poi vediamo, ovviamente sarà gestita dalle forze di polizia col solito equilibrio di cui io mi fido ciecamente, quindi col fatto insomma di saperla confinare in un quadro di illegalità senza che ci possano essere turbative per la sicurezza pubblica. Buongiorno, allora avete ascoltato le parole del ministro Piantedosi, oggi è una giornata di allerta a Roma, soprattutto, dove ci sarà questa manifestazione non autorizzata, Propal, o comunque in concomitanza con l'anniversario del 7 ottobre, avete sentito le parole del ministro Piantedosi, che si augura appunto che tutto vada per il meglio, soprattutto nella gestione, ieri poi è stata utilizzata anche un'altra parola, ovvero contenimento, un'azione di contenimento, perché non essendo appunto una manifestazione autorizzata, i manifestanti che si riuniranno principalmente in Piazzale Ostiense, intorno a mezzogiorno, si dovrebbero muovere da lì, staremo a vedere se si potranno muovere, oppure no, fatto sta che è una giornata appunto di grande attenzione e tensione, anche per un allarme terrorismo, concomitanza con l'anniversario del 7 ottobre, che c'è un po' in tutta Europa. Allora, do il buongiorno ad Anna Paola Concia, buongiorno, in studio con noi oggi dell'Associazione 7 ottobre, che domani manifesterà, giusto? Sì, domani c'è... A Roma. Alla Sala Umberto, sì, alle 10. Alle 10. Maurizio Acerbo, di Partito di Rifondazione Comunista, buongiorno, buongiorno Alfonso Raimon dell'Huffington Post. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, ieri e oggi c'è una conferenza dell'Italia dei Conservatori, in cui sono presenti a Roma vari giornalisti intellettuali, politici, legati al mondo conservatore, non solo per riflettere temi come l'Europa, il futuro della libertà, e parlare chiaramente anche del 7 ottobre. Del 7 ottobre. Buongiorno, in collegamento anche a Emanuele Fiano del Partito Democratico. Buongiorno Fiano. Buongiorno a voi. Allora, vi sottopongo un intervento oggi sulla stampa di Zagrebeschi che dice se anche un'idea ripugnante ha diritto di essere manifestata. Le opinioni che si vogliono esprimere, sia pure le più estreme, non giustificano il divieto. La Costituzione prevede solo la comunicazione alle autorità, non serve l'autorizzazione. Vedo Acerbo che annuisce. Sì, sono principi che dovrebbero essere scontati, invece in questi giorni abbiamo scoperto che la totalità del governo e purtroppo anche gran parte dei commentatori ignorano dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Una manifestazione può essere criticata, si possono fare polemiche. Se domani ci fosse un corteo a sostegno di Netanyahu, io riterrei di doverlo criticare, ma non mi sognerei mai di dire che va vietato. Eppure io penso che Israele in questo momento è uno Stato terrorista. E' un passo indietro e vedere che cosa prevede questa piattaforma di questa manifestazione. Sì, però ripeto, si possono vietare solo se ci sono problemi di ordine pubblico. E' un anno che ci sono manifestazioni, in cui ho partecipato a tutte, senza problemi di ordine pubblico. Quindi non ci sono stati disordini, scontri. La gente ha manifestato la propria solidarietà con il popolo palestinese. Quindi non c'erano motivazioni. Ci sono delle cose che sono vietate dal nostro ordinamento. L'incitamento all'odio razziale, al trego della ricostituzione del partito fascista. Ma non mi pare che, tant'è vero che non c'è stata una sola denuncia dettagliata di queste cose. Le faccio una domanda. Che cosa è accaduto il 7 ottobre? Di un anno fa ormai. Il 7 ottobre c'è stato un attacco da parte di organizzazioni palestinesi nei confronti del territorio israeliano. Noi abbiamo condannato gli attacchi contro i civili, anche se voglio ricordare che, perché noi condanniamo sempre gli attacchi contro i civili, chiunque li faccia. Mentre è noto che i sostenitori Netanyahu non hanno mai condannato la strage che va avanti da un anno e che andrà avanti anche prima del 7 ottobre. Perché non è che prima del 7 ottobre ci fosse la pace e la giustizia in terra di Palestina. Cioè un'occupazione illegale sanzionata dalle Nazioni Unite e da tutte le corti di giustizia internazionali che va avanti da decenni. Allora noi abbiamo condannato ciò che è accaduto il 7 ottobre ma non riteniamo che il 7 ottobre legittimi quello che sta facendo il genocidio che sta compiendo lo Stato di Israele. Cioè Israele non doveva rispondere a quanto accaduto il 7 ottobre. No, voglio precisare ulteriormente, c'è anche da ricostruire la narrazione sul 7 ottobre perché sui giornali israeliani ci sono più verità che su quelli italiani. Faccio notare, per esempio io l'ho appreso leggendo Arez si dice così, Arez che Hamas ha chiesto una commissione internazionale di inchiesta sui fatti del 7 ottobre e molti giornalisti israeliani e lo stesso esercito israeliano hanno smentito molte delle feratezze che sono state raccontate per fomentare l'opinione pubblica occidentale a favore di ciò che sta facendo Netanyahu perché sono state raccontate molte balle e da ultimo voglio ricordare che il 7 ottobre molti israeliani Tipo quali balle? Caro Emanuele la stampa, persino il New York Times Dico tipo quali balle? Il New York Times ha scritto che il racconto fatto sui bambini ammazzati in determinate maniere messi dentro al forno, decapitati le teste con cui giocavano eccetera erano invenzioni informative su cui non c'era riscontro se vuoi la prossima volta mi porto tutto il dossier delle cose tradotte dalla stampa internazionale in cui in Italia non parliamo ma torno alla questione Emanuele si condannano gli attacchi contro i civili per me sicuramente per questo non condivido l'esaltazione a critica di quello che è accaduto il 7 ottobre ma su una cosa voglio essere fermo e ripetere le parole di Bettino Craxi nel Parlamento della Repubblica Italiana una cosa è condannare singoli atti che possono essere definiti di terrorismo altra cosa è negare il diritto di resistenza del popolo palestinese poi io sono per una soluzione di pace però dire che i palestinesi che Leila Khaled che è un'eroina della lotta del popolo palestinese sia una terrorista e non una partigiana io credo che sia sbagliata Sentiamo Fiano Stiamo affrontando un argomento che ha mille sfaccettature e trovo che sia l'argomento nel quale oggi uno, perlomeno io, me stesso mi trovo a dover fare più premesse che in qualsiasi altro argomento del mondo la mia premessa più fondamentale è che in quel territorio non ci sarà la pace finché non ci saranno due stati per due popoli il popolo palestinese ha diritto ad uno stato il popolo d'Israele ha diritto ad avere il proprio stato ed esiste il diritto di difesa questo in generale è la cornice nella quale io credo da quando avevo l'età della ragione diciamo da circa 45 anni secondo in linea generale io sono contrario a vietare le manifestazioni ma esiste un'autorità di pubblica sicurezza che hanno informazioni che io non ho per le quali possono come è già stato detto vietare una manifestazione per la quale in Italia non esiste secondo Costituzione il dovere di richiedere il permesso possono vietarla per molti tipi di ordine pubblico in maniera chiara in alcune delle manifestazioni che si sono svolte ma in particolare nel volantino che ha indetto la manifestazione di cui parliamo per oggi ci sono elementi che riguardano un reato che Acerbo non ha citato che esiste nel codice penale da circa 10 anni io c'ero quando l'abbiamo votato che è la apologia di terrorismo che fu inventato o fu introdotto nel nostro codice penale al tempo immediatamente dopo la terribile strage del Bataclan io tendenzialmente non sono per vietare le manifestazioni comprese queste però c'è un'autorità superiore e un'autorità di pubblica sicurezza che decide se ci sono dei problemi di ordine pubblico non sono per vietare le manifestazioni anche se uno come me vorrebbe che in Italia da decenni fossero vietate le manifestazioni in cui si esalta il fascismo con migliaia di saluti romani o addirittura di SIG Heil o ci si richiama a emblemi del fascismo ma bisogna sicuramente sempre stare attenti al divieto di manifestare le proprie idee in alcuni casi bisogna vedere se si stanno commettendo se già preventivamente sono stati annunciati dei reati come l'apologia di terrorismo dopodiché personalmente non mi soddisfa la descrizione che Maurizio Acervo ha dato del 7 ottobre cioè l'ha descritta senza aggettivazioni ora nella terribile sanguinosa guerra che contrappone Israele ai palestinesi per la quale ho già detto il mio parere io penso che i territori occupati da Israele nel 1967 andrebbero liberati che andrebbero smantellate le colonie che lì dovrebbe sorgere uno stato palestinese ma noi stiamo parlando di Hamas Hamas è molto diversa dall'organizzazione per la liberazione della Palestina che Yasser Arafat condò nell'hotel colonial nelle colline giordane di Gerusalemme nel 1964 quella si chiamava organizzazione per la liberazione della Palestina questa si chiama movimento di resistenza islamico e all'articolo 7 paragrafo 6 del proprio statuto che non è stato cambiato quell'articolo chiede lo sterminio degli ebrei di tutto il mondo citando un versetto del Corano peraltro interpretandolo in modo che molti non condividono e chiede che la Palestina sia fondata dal Giordano al mare che sia sottoposta alla legge della Sharia e proclama che nessun territorio islamico non la Palestina islamico le stesse parole che usa Kamenei nel comizio di ieri possa mai essere suddiviso allora quando si racconta questa storia io ho fatto la mia premessa bisogna ricordarsi con tutta la mia contrarietà alle politiche del governo netanyahu e io non sono assolutamente affautore delle politiche di netanyahu se fossi in Israele sarei stato in piazza in tutti questi anni e quando ho abitato in Israele sono sceso in piazza per fermare la guerra del Libano al confine del Libano a manifestare con gli italiani pacifisti che chiedevano ai soldati di tornare indietro quindi ho la coscienza a posto ma bisogna dire quando si racconta questa storia che Israele è circondato da nemici che si chiamano Hamas Hezbollah Jihad Islamica le milizie scite in Iraq e in Siria che non vogliono la vittoria della causa palestinese cioè la costruzione dello Stato palestinese vogliono la distruzione dello Stato di Israele e in più in alcuni casi come Hamas la distruzione degli ebrei del mondo quando si racconta quell'episodio del 7 ottobre di un anno fa bisogna dire quello è stato un esempio di coloro che vogliono distruggere Israele quanto al fatto che non ci siano prove su quanto diceva Cervo sul 7 ottobre starei molto attento perché non voglio far vedere le foto che ci sono dei bambini bruciati le ho pubblicate sono state pubblicate in Israele può essere che ci siano degli eccessi però per fortuna c'è una relazione delle Nazioni Unite sulle violenze dalle donne israeliane depositata alle Nazioni Unite non fatta da organi israeliani fatta da un organo delle Nazioni Unite sul numero di violenze di donne violentate in quel giorno la violenza contro le donne o l'uccisione dei padri divanti ai figli o le case bruciate ci sono i cadaveri carbonizzati a cui mancano degli atti e ci sono le fotografie non sono atti di una guerra di liberazione sono atti di sadismo inaccettabile Allora Alfonso Raimo parte del ragionamento di Emanuele Fiano ci porta secondo me anche all'intervento di Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera le nostre pericolose fragilità e ci ricorda Cazzullo che l'anniversario del 7 ottobre prevede Israele all'offensiva i popoli della regione stremati da un anno di guerra e l'Occidente cioè noi mai così deboli e incapaci di iniziativa politica Questo è il contesto diciamo che è un contesto importante ma la piazza di oggi è Roma è in qualche modo una piazza che parla anche al mondo perché io sono molto d'accordo con quello che dice Emanuele Fiano in questa piattaforma si dice che sostanzialmente Israele è un'entità sionista che deve essere smantellata e il documento con cui il principale promotore cioè i giovani palestinesi aderiscono a questa piattaforma dice che il 7 ottobre è l'inizio di una rivoluzione che è esattamente quello che ha detto Cabenet ieri più o meno esatto allora perché dico questa è una piazza l'inizio di un progetto l'inizio di un progetto quindi ovviamente io sono d'accordo con quello che dice Emanuele vietare una manifestazione è sempre un atto estremo però va contestualizzata in questo orientamento politico tanto più che la comunità palestinese ne è consapevole si è spaccata soprattutto la comunità palestinese di Roma è molto consapevole ha programmato un'altra manifestazione per la settimana dopo alla quale aderiranno anche giovani palestinesi che non la pensano in questo modo per cui tu richiamavi giustamente non esistiamo sul piano internazionale non c'è una comunità internazionale consapevole è così è assolutamente così quella piattaforma del 12 potrebbe essere l'occasione per cui tante forze si mettono insieme e si aziona un movimento di opinione che poi è fondamentale perché se noi facciamo una guerra di opinione nelle piazze è molto più difficile poi rendere i nostri rappresentanti in qualche modo consapevoli in grado di rappresentare la nostra volontà di risolvere quel problema facevamo riferimento faceva riferimento Emanuele a Arafat e Zatrabini Arafat non parlava OLP non parlava con Israele però a un certo punto si sono trovati a Oslo in un paese terzo in Norvegia per un anno ad avere un dialogo che ha puntato a quegli accordi agli accordi di Oslo che sono la pietra miliare se oggi parliamo due popoli di due stati è perché lì c'è stato scritto lo hanno scritto e per la maggior parte dei palestinesi bisogna dirlo quegli accordi sono stati una sconfitta e se non si capisce perché c'è stato un consenso del popolo palestinese rispetto all'azione del 7 ottobre non si capisce lo stato di disperazione derivante dal fatto che tutto l'Occidente ha fatto quadrato intorno a Netanyahu e a un Parlamento israeliano che ha avuto la negazione dobbiamo uscire fuori non si è riuscito a dire che era un atto terroristico io intanto ringrazio il mio malefiano perché ha detto tutto quello che penso quindi molte cose non ho bisogno di dirle volevo solo dire una cosa scusate quello che bisogna smantellare davvero è questa dinamica di azione e reazione noi siamo tutti come dire in attesa che Israele faccia una rappresaglia dopo l'azione dell'Iran che ha mandato 180 missili ma noi non possiamo replicare quel modello cioè se una piazza io ti contestavo un'altra cosa è che la comunità internazionale o meglio l'Occidente si è schierato con Netanyahu sostiene Israele o meglio sostiene Netanyahu perché tra l'altro io spero che un giorno Israele esprima una classe dirigente diversa che cerchi la pace cioè non tutto ciò che sta facendo Netanyahu stiamo parlando del 7 ottobre dove Israele è stato aggredito da quella rappresaglia di terroristi guardate io su di sostenere una posizione scomoda ma vi ricordo che l'Africa National Congress di Nelson Mandela o il fronte di liberazione nazionale algerino o tutti i movimenti di liberazione dal colonialismo occidentale sono stati catalogati e classificati dagli Stati Uniti d'America come organizzazioni terroristiche Mandela fino al 2003 si o no mi dà una risposta Amaz è un gruppo terroristico si o no anche qui se noi decolonizziamo il 7 ottobre cosa accade un momento no abbiamo un ordine abbiamo un ordine non possiamo ridurre Amaz come se fosse Isis risponda Alfonso Rai il 6 ottobre la posizione di Netanyahu in Israele era meno o più forte di quanto sia adesso da punto di vista strategico questa dinamica di azione e reazione lo ha aiutato lo stiamo aiutando perché ha potuto fare quelli che erano i suoi piani io non credo che l'intelligenza israeliana non sapesse cosa sta per accadere il 7 ottobre perché hanno dimostrato di essere la più potente intelligenza c'è una logica di guerra però volevo solo capire il 7 ottobre il massacro che c'è stato ma condannato è ovvio ma cosa è stato secondo lei un misto di terrorismo e resistenza un misto di terrorismo non solo terrorismo ma posso dire una cosa da cerco ma perché è una contraddizione di una realtà di cui dovremmo prendere atto Siano prego quando si usa dico a Maurizio a cerco quando si usa la parola resistenza nella mente di noi italiani che abbiamo sacro il valore che nel novecento ha sconfitto il nazifascismo in Italia perché resistenza per noi italiani ancora più che per il resto degli europei forse un po' per i francesi per gli spagnoli ma insomma soprattutto per gli italiani per noi ricorda i partigiani credo Maurizio che su questo abbiamo la stessa radice antifascista ok allora tu pensi che i partigiani in Italia abbiano mai fatto un attacco a civili non so quali perché i partigiani resistevano in un territorio occupato dai nazisti o anche contro i fascisti italiani come loro nel quale hanno violentato le donne se fossimo in Italia ucciso 12.000 persone diciamo lì 1200 hanno bruciato perché ci sono le foto dei corpi carbonizzati ripeto sono state pubblicate in tutti i siti hanno hanno scusate che si è spenta la luce non fa niente si vede benissimo uguale la domanda è chiara si vede uguale no voglio dire quando usiamo no prima tu hai citato Maurizio tu hai citato dopo la riattacco tu hai citato Nelson Mandela hai citato il movimento di liberazione algerina contro la colonizzazione francese non stiamo parlando dello stesso livello di cose io vorrei spingerti ad usare degli aggettivi per ciò che è accaduto il 7 ottobre che facciano capire al pubblico di Gaia Tortora che non parliamo di un episodio uguale mentre se tu mi parli mentre se tu mi parli di ciò che sta accadendo in Cisgiordania e mi critichi la violenza dei coloni israeliani appoggiati da una parte del governo di Netanyahu io sono d'accordo con te sono vergognosi la violenza dei coloni in Cisgiordania è vergognosa ma tu devi ammettere lo dico per suggerire tra di noi una piattaforma di valori i valori di quel 7 ottobre sono disumani e perché lo sono? perché nessuna delle piattaforme dei movimenti di resistenza che tu hai citato esistono gli articoli che ci sono nella piattaforma di Hamas in nessuna di quelle si propone lo sterminio della popolazione che si attacca mai sia che i partigiani italiani hanno scritto una cosa del genere è una cosa che deve servire a parlare tra teme lo stesso linguaggio lo stesso linguaggio un attimo solo perché devo sentire ancora Paola Concia e Giubilei aggiunge Cazzullo chi ha pensato e commesso l'orrendo crimine del 7 ottobre aveva due obiettivi accendere una rivolta in Cisgiordania e prendere il potere anche lì e provocare una reazione talmente dura da isolare Israele nel mondo questo è il grande problema cioè quello che sta accadendo oggi io tra l'altro appunto sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Emanuele Fiano quindi non aggiungo altro a quello che ha detto che ha detto in questo momento il 7 ottobre ha scatenato cosa che la reazione di Israele ha fatto uscire allo scoperto perché c'è una parte della sinistra mondiale che che non ha mai accettato che Israele si difendesse Israele è uno stato democratico circondato da stati che non vogliono la sua esistenza allora dopo il 7 ottobre che cosa accade che la reazione esatto Hamas sapeva benissimo e con quell'atto terroristico Israele non avrebbe potuto fare altro che reagire e quindi oggi la reazione l'antisemitismo diffuso nel mondo è riuscito allo scoperto e secondo me era sotto la sabbia ma è riuscito allo scoperto perché oggi oggettivamente l'antisemitismo è molto legato a una parte della sinistra non è tutto ma è così è così è così perché appunto la reazione ma quale probabilità no tu non devi parlare e devo parlare io no 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 facciamo finire quella cosa ma nessuno gli dava il nazista e se veramente antidemocratici no scusa è proprio la banalità mi farei ammazzare per difendere e allora fatti ammazzare non c'è bisogno che ti fai ammazzare fammi parlare non c'è bisogno che ti fai ammazzare fammi parlare non si può dire che la sinistra è antisemita allora oggi è così in questo momento c'è una parte non è vero criticare Israele non è antisemitismo allora mi fai finire ci sono ebrei in tutto il mondo che criticano Israele fammi finire non va bene che tu non mi fai parlare caro compagno acerbo se mi dai dell'antisemita mi fai ma questa è una è una tecnica potrebbe andare avanti poi è tutto il giorno sì esatto allora stavo finendo quindi è chiaro che Hamas come dice chiaro a tutti che Hamas aspettava quella reazione quella reazione certo sicuramente violenta è una reazione che ha tirato fuori allo scoperto oggi l'antisemitismo che stava seduto sotto la sabbia anche in Germania ecco anche in Germania cioè in Germania che cosa accade che quel 20% di antisemiti sono sempre esistiti ma c'era un controllo sociale che li teneva ora siccome l'antisemitismo dove vi ricordo Paola Boncia vive in Germania se no sembra che parli della Germania così oggi siccome in tutto il mondo in tutta Europa e anche non solo in Europa l'antisemitismo è stato sdoganato in Germania oggi gli antisemiti parlano sono venuti allo scoperto naturalmente in Germania la diciamo il controllo sociale gli anticorpi sono maggiori che in altri paesi un po' più diciamo strutturati ecco un po' più però anche in Germania oggi tragicamente la Germania fa i conti con l'antisemitismo allora andiamo in pubblicità Giubilei Promesso riprendo da te tra poco allora vi leggo brevemente e velocemente la piattaforma Giubilei di lotta sulla cui base è stata chiamata la manifestazione nazionale per la Palestina del 5 ottobre a Roma pretendiamo che lo Stato italiano si ritiri dall'aggressione genocida in Palestina per il ritiro si intende fermare la vendita e l'invio di armi verso l'entità coloniale sionista ovvero Israele cessare ogni accordo militare con l'entità coloniale sionista cessare ogni accordo accademico con l'entità coloniale sionista richiamare i cittadini italiani che in Palestina combattono tra le file dell'esercito di occupazione sionista impedire questa pratica riconoscere il diritto al ritorno alla resistenza del popolo palestinese sospendere la propaganda di guerra messa in atto in ogni canale di informazione nei luoghi della formazione ritirare ogni provvedimento repressivo e di censura che colpisce o chi si schiera a fianco del popolo palestinese una serie di cose insomma di rivendicazioni che però dopo mi risponde non adesso diciamo che in concomitanza dell'anniversario del 7 ottobre hanno fatto di più perché basta andare e invito gli ascoltatori a farlo sul profilo Instagram dei giovani palestinesi che sono gli organizzatori di questa manifestazione e scrivono nero su bianco ieri viva il 7 ottobre proprio lo scrivono in modo nero su bianco se non ci credete c'è qua lo screenshot che la regia può inquadrare e lo scrivono in modo proprio estremamente netto allora qual è il punto? il punto è che tutti siamo a favore della libertà di manifestare e la libertà di espressione di diritto e questo è un qualcosa che tuteliamo e che dobbiamo tutelare a prescindere a prescindere dal fatto che siamo d'accordo o meno su chi scende in piazza perché non è che si può difendere la libertà di espressione solo se si è d'accordo con le opinioni di chi manifesta e questo è un principio generale quindi in linea generale io non sono favorevole a fare in modo che vengano vietate manifestazioni di chi è a favore della Palestina tant'è che nell'ultimo anno la 7 ottobre in avanti mi pare siano avvenute tutte le settimane manifestazioni di persone che sono scese in piazza a favore della Palestina qui però siamo su un piano diverso perché nelle ultime settimane sono accadute una serie di fatti primo fatto un fantomatico nuovo partito comunista italiano rifacendosi a modalità tipiche degli anni di piombe degli anni 70 che ha un indirizzo in una casella postale in Francia un partito clandestino fa una lista di proscrizione in cui mette insieme una serie di giornalisti una serie di intellettuali una serie di imprenditori una serie di politici magari si sarà anche Laconce Fiano e non lo so e quindi si parte con queste liste di proscrizione dopodiché che cosa accade? accade che c'è una manifestazione sabato scorso in piazza a Milano in cui si scendono in piazza e si fanno dei cartelli mettendo come dei bersagli perché di questo si tratta la senatrice Liliana Segre l'ex presidente della comunità ebraica Pacivici il ministro Crosetto c'ero anch'io in questi cartelli costringendosi da quel momento in avanti a dove svolgere le nostre iniziative e manifestazioni con la Digos per ragioni di ordine pubblico e quindi avviene questo fatto dopodiché lei i gruppi che organizzano queste manifestazioni oppure addirittura in clandestinità oppure perché so che per esempio Capezzone Daniele Capezzone doveva presentare il suo libro in sinagoga e non è stato non ha potuto pubblicizzarlo ma ha dovuto presentarlo è stato fatto un'altra cosa scusa Giubileo aggiungo solo una cosa di quel corteo di Milano se non vado errato uso la forma ipotetica perché qui ormai i colpi di querela si scambiano c'è qualcuno che dal palco di quella manifestazione ha invitato ad andare con i pennarelli a segnare le abitazioni degli ebrei e dei sinistri questo è stato fatto per esattezza a ragione di piano però non alla manifestazione ma è stato fatto a un altro evento che è all'interno è stato fatto al congresso di questo partito che si chiama partito dei Carc in cui è intervenuto una persona che non voglio neanche citare che come ricordava giustamente Fiano ha invitato come veniva diciamolo in modo chiaro durante il nazismo a mettere la stella di Davi sopra le porte come si chiama questo come si chiama questo lo sappiamo bene ma non diamo neanche il tocco voglio arrivare a un altro punto qual è l'altro tema a proposito di quello che veniva ricordato del libro di Daniele Capezzone che mentre voi dite che c'è una compressione della libertà di espressione o la libertà di manifestare da parte di chi è a favore della Palestina in realtà quello che è accaduto nell'ultimo anno e possiamo testimoniarlo tutti noi in varie occasioni è che questa compressione della libertà di espressione è avvenuta nei confronti di tanti autori o personalità di origine ebraica che non hanno potuto per esempio organizzare delle presentazioni di libri nelle università pubbliche Molinari Davide Barenzo e vi aggiungo che quando si prova a organizzare per esempio una conferenza o una presentazione di un libro in un'università pubblica o in un luogo in una biblioteca e quant'altro le autorità dicono è meglio non organizzarla o se viene organizzata si fa un evento in un clima oggettivamente con tutte le forze dell'ordine a copertura e quindi è evidente che c'è un problema ma non è un problema di libertà nei confronti di chi è a favore della Palestina è un problema di tutela della comunità ebraica o più in generale di chi ha delle opinioni che sono delle opinioni non dico a favore di Israele ma con una visione differente e poi un ultimo punto io la invito e se vuole ci andiamo insieme a Cerbo dopo il 7 ottobre andiamo insieme nei kibbutz visto che io ci sono stato a pochi giorni dal 7 ottobre lo scorso anno così vediamo insieme con i nostri occhi che cosa ha fatto Hamas che è un gruppo terroristico e mi piacerebbe che lei lo dicesse in modo chiaro e così vede con i suoi occhi il sangue dentro i kibbutz vede con i suoi occhi i forni in cui erano bruciati i bambini vede con i suoi occhi la strada dei civili e almeno evita di negare la realtà poi ciò non è un altro piano però lei non può fare una premessa negando cos'è successo il 7 ottobre perché se lei dice la reazione di Israele è una reazione che è stata superiore eccetera quello è un piano su cui si può discutere però penso che in un dibattito democratico e in un dibattito rispettoso non si possa mettere in discussione come ha fatto lei poco fa il 7 ottobre perché se la base è mettere in discussione il 7 ottobre siamo su un piano veramente diverso che non può essere un piano di confronto ma di negazione della realtà guarda io sono molto preciso io ho condannato il 7 ottobre ho fatto un comunicato in cui condannavo la strage di civili però sono emersi dei fatti precisi scusami che l'esercito di israeliano dagli ericotti li ha sparato anche sui cittadini israeliani e sono emersi che una serie di cose che sono state raccontate anche persino da balde e non da tagliati e loro bufano però lei non può fare il gioco delle tre case è un problema grosso cosa accade quando quei ragazzi vengono portati via da quel rave che cos'è quello ma è ovvio che io non lo riesce a dire non lo riesce a dire a serbo è un problema fateglielo dire magari ci riesce guardate è un'ora che siamo in trasmissione non l'ha detto ha detto terrorismo e resistenza voi non riuscite a dire gelocidio io ho condannato gli attacchi contro i civili quindi non cambiamo le carte in tavola voi siete legati come governo italiano e Repubblica Italiana voi chi? tutti voi l'Italia è legata in questo momento dal 2005 da un accordo di cooperazione militare non culturale con lo Stato di Israele che occupa illegalmente i territori palestinesi e ancora oggi inchiesta di altra economia l'Italia fornisce ordini a Israele per commettere il gelocidio a Gaza Leonardo non gruppo tra l'altro pubblico quindi e questo viene mai condannato dopo di che io cerco di ragionare questo è un libro che consiglio questo è un libro di un grande storico italiano che insegna negli Stati Uniti si chiama Enzo Traverso Gaza davanti alla storia io lo consiglio arrivo devo chiedere una cosa però posso dire una cosa io non nego il terrorismo dico come diceva Bettino Craxi Presidente del Consiglio in Parlamento non contestato da nessuno che bisogna distinguere il fatto che un popolo ha diritto alla resistenza dopo di che che la resistenza di Hamas non sia quella dei partigiani italiani è ovvio ma anche quella di Azov non è quella dei partigiani italiani un attimo solo Raimo che ci lascia prima c'è però troppa timidezza diciamo così nella sinistra PD nel prendere nettamente posizione contro anche questa manifestazione oggi sul tempo se non sbaglio Romeo capogruppo della Lega dice Schlein collabori nei fatti e non solo a parole PD e 5 Stelle prendano le distanze dagli anti-isani poi dopo torniamo anche su Gramellini oggi che parla di Morassut e di questa timidezza nel condannare come ha reagito la sinistra di fronte alla piazza di oggi la doppia linea insomma sul piano della legittimità della manifestazione ha detto si deve tenere ma evidentemente nessuno partecipa perché poi di politica ci sarà la rifondazione il CARC e potere al popolo se non sbaglio il tema lì è che la sinistra secondo me non riesce a essere incisiva nel mettere l'Italia l'opinione pubblica del governo in particolare contro Netanyahu contro le politiche di Netanyahu quando Tajani ha riferito alla Camera qualche giorno fa nella sua relazione non ha mai detto la parola Netanyahu chiama Israele Israele ma questa è una mistificazione perché Israele non è un unico blocco insieme a Netanyahu e la sinistra dovrebbe utilmente non c'è una sola di sinistra la sinistra diciamo del PD io e Acerbo io sono una donna di sinistra e siamo molto diversi questa è sinistra sinistra questa è sinistra progressica come riformista spero arrivi ma non è in Parlamento la sinistra in Parlamento dovrebbe portare il governo a esprimersi nettamente contro Netanyahu perché esatto perché Schlein e Meloni si sono sentite ma lì si sta cercando di costruire una posizione comune ma secondo me dovrebbe essere una posizione che prende le distanze da quello che fa il governo israeliano insieme alle distanze ovvie mi pare di capire insomma nei confronti di Hamas perché Hamas è ingiustificabile da ogni punto di vista non c'è uno su cui si possa dire ha fatto bene compreso il fatto che ha fatto il male del suo popolo Fiano è troppo timido questo PD mettiamola così no prima di risponderti mi premeva mettere i puntini su lei perché la questione dell'antisemitismo è molto delicata io ho una storia familiare per la quale mi interessa essere molto preciso l'antisemitismo non attraversa affatto tutta la sinistra e criticare Benjamin Netanyahu non è antisemitismo è fare politica ma se la critica a Israele diventa la negazione del suo diritto ad esistere allora tu stai utilizzando un metro di discriminazione nei confronti di Israele che non utilizzi nei confronti di nessun paese al mondo primo secondo quello che abbiamo raccontato che prima ha citato Giubilei poi ho aggiunto quella questione appunto usando tutte le ipotetiche perché non ero presente ho solo letto il resoconto di chi dice di andare a segnare col pennarello le case degli ebrei quello è antisemitismo degli anni 30 in Europa e anche il cartello che riguardava Liliana Segre o le citazioni degli altri di Riccardo Pacifici degli altri quello significa targettizzare significa mettere i cerchi concentrici intorno alla faccia di Liliana Segre io vivo sotto scorta che pensa di quel cartello contro Liliana Segre un attimo solo è un cartello stupido sbagliato ma perché è sbagliato perché dice scritto che Liliana Segre o Fiano agente sionista agente sionista ed è sbagliato per agente perché spiego perché perché sostenere che una persona che difende o si identifica con lo Stato di Israele come accade alla maggioranza della comunità ebraica italiana non è un agente è una persona che difende però io spero che non venga io spero che non venga nessuno non venga nessuno a una nostra iniziativa ai nostri eventi o vada dalla senatrice Segre e passi dalle parole ai fatti io lo spero per lei e lo spero per voi per il rischio di mettere dei volti in piazza è proprio quello però bastava dire indegno bastava dire indegno senza un nuovo agente la senatrice Segre che ha la mia massima stima però la frase che su quel cartello ripeto cartello demensiale io penso che Rubio che non è un genocidio io credo che la senatrice autorizza quel cartello no non autorizza il cartello ma che la Segre abbia detto una cosa molto grave dopo la domanda ha interrotto Fiano ha interrotto Fiano prego Fiano dopo voglio dirti una cosa dopo la pubblicità posso capire le ragioni per cui lo dico Maurizio io sono in collegamento se tu mi parli sopra no no figurati una delle cose che emerge in questo dibattito che è ottimo che ha organizzato Gaia Tortora è la difficoltà di avere delle parole comuni noi abbiamo delle difficoltà a discutere sul termine genocidio adesso Maurizio ha citato il termine sionismo allora lo voglio dire con chiarezza io sono sionista penso che sionismo significhi difendere il diritto dello Stato di Israele ad esistere non vuol dire essere d'accordo con le politiche di occupazione dei territori occupati o non vuol dire essere d'accordo con la voglia che c'è in una parte del governo di fare la grande Israele o non vuol dire essere d'accordo con quel ministro del governo che ha proposto dieci mesi fa di buttare una bomba atomica su Gaza faccio l'esempio io sono cresciuto nel periodo politicamente nel periodo in cui Yasser e Raffat e Isaac Rabin si sono stretti la mano la narrazione della storia della fondazione dello Stato di Israele della natura palestinese tra israeliani e palestinesi non coinciderà mai ognuno ha le sue storie dietro per Israele il 48 è la fondazione finalmente dello Stato di Israele per i palestinesi è la storia dell'allontanamento o della cacciata di 700.000 palestinesi dalle loro case ma Yasser, Raffat e Rabin ci hanno insegnato una cosa ad un certo punto bisogna smettere di raccontarsi la propria storia passata perché non coinciderà mai e bisogna incominciare a costruire il futuro due popoli due stati mutuo riconoscimento in Israele ci sono forze che credono ancora in questo è difficilissimo pensarlo ancora adesso ma bisogna accettare le nostre parole bisogna accettare che ci sia una parte del popolo ebraico che difende il diritto e non solo il popolo ebraico del mondo che difende il diritto dello stato di Israele ad esistere e insieme difendere il diritto dello stato palestinese ad esistere se mi rivolgo a Raimo scusa Raimo ad Acerbo se chi coloro i quali in un campo e nell'altro non riconoscono il fatto che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto intorto non contribuiscono alla pace l'unico modo di arrivare alla pace è difendere i due diritti i due diritti grazie allora andiamo in pubblicità io devo salutare ti devo salutare grazie grazie a avermi invitato grazie Alfonso Raimo ci rivediamo pubblicità poi torniamo grazie a tutti Allora eccoci qua ovviamente il dibattito continua anche in pubblicità prima o poi manderò in onda esattamente cosa accade in pubblicità che sono scherzo però Paola Concia voleva chiedere una cosa precisa a Cerbo però rispondi brevemente se in una manifestazione di estrema destra facessero dei cartelli a Cerbo sporco comunista e con attaccate a Cerbo tu che chiaramente grideresti al fascismo giustamente è chiaro che tu ti indigneresti ci indigneremo tutti avremo della solidarietà e condanneremo chi come diceva anche Emanuele Fiano è addita perché questa è una cosa tipica allora perché tu non capisci che quella stessa cosa che è stata fatta a Milano è una cosa gravissima e la reputi stupida cioè stupida cosa stupida a me quando piacevano le cose omofobe contro di me Emanuele lo sa perché stavamo insieme in Parlamento molto spesso dicevano perché sono stupidi è una cosa che a me mi dava molto fastidio perché non è stupidità è uno sminuire qualcosa di più e sminuisci l'evento comunque cerca di metterti nei panni anche questo io dico proviamo a fare quello che dice Emanuele mettiamoci nei panni io penso che ci sia una strumentalizzazione non da parte di Fiano che ha detto cose molto equilibrate però in generale una strumentalizzazione del tema dell'antisemitismo per giustificare l'occupazione israeliana e adesso il genocidio e quindi non mi presto a questo così come ho il massimo di distanza da cose come quelle che dice di solito Rubio che ripeto è il miglior alleato a mio parere ma gli episodi di antisemitismo stanno anche in Germania cioè ci sono alle università in Francia io vorrei che un decimo della indignazione che viene espressa per figure marginali che diventano gigantesche solo perché questi che fanno queste cose non è così però no scusami perché noi siamo di fronte a un genocidio l'Italia è alleata fornisce le armi l'Europa è alleata sostiene gli Stati Uniti sostengono e rispetto a questo voi indignate per Chef Rumbio anche sulla storia c'è una scala di poveri palestinesi possiamo chiarire un'altra cosa per i morti del 7 ottobre io mi indigno per il 7 ottobre e ritengo responsabile del 7 ottobre anche Netanyahu l'ho detto diciamo visto che sono state citate le armi diciamo anche perché arriviamo al 7 ottobre noi arriviamo al 7 ottobre perché c'è una potenza che è l'Iran che da anni finanzia e foraggia e dà le armi a dei gruppi terroristici nella fattispecie ad Hamas e a Hezbollah che hanno tra loro delle differenze Hamas e Hezbollah però entrambi rappresentano i gruppi terroristici allora qual è il punto il punto è che se c'è una potenza nel territorio che continua a dare delle armi continua a foraggiare da un punto di vista finanziario di gruppi terroristici i quali gruppi terroristici poi compiono delle azioni come sono state le azioni del 7 ottobre e utilizzano perché anche questo lei dovrebbe dire quando parla poi lui dovrebbe dire poi lei voi dovreste anche ricordare quando parlate di Gaza dovreste anche ricordare che Hamas utilizza i civili come degli scudi dovreste anche ricordare che Hamas mette le proprie basi scientemente apposta dentro gli ospedali nei sotterranei degli ospedali dentro le scuole gli israeliani sono costretti a popolare gli ospedali io sto dicendo un'altra cosa io sto dicendo che lei deve anche ricordare che i civili di Gaza vengono utilizzati come scudi umani lei non condanna il genocidio quindi voi condannate il genocidio in atto no perché io cambio scusate ma quando una donna che l'ha vissuto sulla sua pelle il genocidio di nome Liliana Segre ti dice quello non è un genocidio sbaglia mi dispiace ma quella l'ha vissuto perché la corte di giustizia è stata nei campi di concetto no perché c'è un idea che il genocidio sia condenito la corte di giustizia non l'ha detto no no non l'ha detto non dica fake news no 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 la corte di giustizia non ha riconosciuto che è un genocidio c'è un procedimento in cui è stato allora la corte di giustizia ha scritto ha aperto il procedimento ha aperto il procedimento ma scusi un procedimento un procedimento aperto significa una sentenza di una corte no ma si è pronunciata no 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 la corte non si è pronunciata dicendo che è un genocidio ma scusi significa voler cancellare un popolo dal sistema si sta fiume al mare allora le ultime stime dal fiume al mare io speravo speravo che il tentativo di Emanuele scusate Emanuele Piano ha fatto un tentativo veramente bellissimo questa mattina di tentare di riportarci tutti attorno alle parole che ci dividono evidentemente non sono solo parole però purtroppo mi sembra che non ci riusciamo attorno alla parola riproviamoci 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 io sono disponibile io penso che non che non serva alla causa della pace discutere della parola genocidio anche se io sono d'accordo con Liliana Segre e non d'accordo con Acerbo per il semplice principio che genocidio non è una parola naturale è stata coniata nel 1947 dall'Emkin e votata dalle Nazioni Unite è uno dei cinque principi essenziali e che ci sia un progetto di eliminazione di un popolo dalla terra non è vero che è stato utilizzato solo dagli ebrei è stato utilizzato per gli ebrei è stato utilizzato anche per gli armei è stato utilizzato per la Cambogia è stato utilizzato in Africa ma non lasciamo questa discussione io dico cosa penso della decina di migliaia di morti che ci sono a Gaza è una tragedia e io sono straziato dei morti civili palestinesi non ora sono straziato da quando ho l'età della ragione quello che non ho sentito nel mondo e non credo di sbagliare però Acervo mi corregga se mi sbaglio in questi 12 mesi non ho sentito una parola sui 9 mila missili che Hezbollah ha sparato sul nord Israele in questi 12 mesi non ho sentito negli scorsi 18 anni una parola di condanna in generale a parte alcuni insomma adesso non sto parlando di Acervo dico in generale del panorama politico dei 40 mila missili scagliati da Hamas contro chi? contro centri civili residenziali israeliani nel sud Israele allora continuo nel tentativo che ho fatto prima non ho problemi a criticare chi in Israele vuole uno stato dal Giordano al mare chi in Israele vuole spellere i palestinesi chi vuole procrastinare l'occupazione e la costruzione di colonie in Cisjordania ma la storia va raccontata bene perché la vicenda del Libano drammatica che abbiamo sotto i nostri occhi non è uguale a quella di Gaza mentre i palestinesi con modalità che io condanno fermamente come il terrorismo assadico esterminazionista di Hamas fanno parte di un movimento che ha uno scopo che è quello di riavere indietro delle terre come quella della Cisjordania per costruire uno stato Hezbollah guidato dall'Iran da 18 anni dalla mozione 1701 dell'ONU del 2006 o 2007 se non mi ricordo forse 2007 che è la mozione che chiedeva ai 15.000 uomini dell'Unifin e all'esercito libanese di smilitarizzare Hezbollah e di far ritirare Hezbollah a nord del fiume elitani nessuno ha fatto nulla il mondo oggi giustamente va in soccorso e cerca di dare soccorso alla popolazione palestinese di cui c'è stato un massacro sicuramente a Gaza nell'azione militare israeliana ma non dice nulla su quello che è successo al nord io spero di riuscire a trasmettere a Cerbo questa asimmetria nei confronti non del governo uniziano che non potrei criticare di più ma di quello che succede complessivamente nel Medio Oriente dalla fine degli anni 70 dalla rivoluzione comunista del 1979 la questione della guerra israelo-palestinese è cambiata perché all'interno di quel conflitto che prima era solo territoriale si è introdotta una matrice islamista che è quella che ritrovi oggi nelle parole di Khamenei nel suo comizio il comizio di Khamenei di ieri ha detto la guerra contro Israele non si fermerà fino alla fine e ha detto al contrario di quello che ha detto il 7 ottobre io dico per arrivare insieme a collaborare tra gli israeliani a far collaborare i palestinesi e gli israeliani che vogliono la pace bisogna riuscire ad avere un terreno comune se noi pensiamo che la ragione sia tutta da una parte e il torto tutto dall'altra non ci si arriverà mai la storia va raccontata tutta a cerbo assolutamente io sono completamente d'accordo con Emiliano su un punto fondamentale e per questo io lamento una cosa che l'Unione Europea e l'Italia soprattutto per tradizione avrebbe dovuto svolgere in questi anni e ha smesso di farlo un ruolo di pace in Medio Oriente invece di passare dalla posizione precedente che era di Sandro Pertini che fascisti e nazisti l'aveva combattuto al rischio della propria vita era di Aldomoro di Andreotti di Berlinguer di Craxi l'Italia era un paese che lavorava per la mediazione per la trattativa il mio amico Felice Bezostri che è stato vostro ospite tante volte socialista milanese che Emanuele conosceva molto bene raccontò un carissimo amico venne a un nostro convegno alla Casa Internazionale delle Donne in Roma molto ammalato poco prima di morire raccontare quando lui aveva cercato di fare da ponte aveva organizzato un incontro tra un intellettuale palestinese dell'Olpe in Italia e un importante esponente della sinistra israeliana negli anni 70 e questo intellettuale poeta palestinese fu ammazzato dal Mossad a Roma uno dei tanti episodi però l'Italia lavorava tutto il complesso delle forze democratiche italiane a posizione e governo per la mediazione poi siamo diventati tutti io no però diciamo la maggior parte dei partiti unilateralmente ed eccessivamente filo israeliani e questo io credo che non giova scusami lo dico perché soprattutto Israele oggi è guidato da partiti e uomini politici come Netanyahu che hanno fatto arrivare i finanziamenti a masse teorizzando appartemente che questo movimento a masse Emanuele correggimi se mi sbaglio avrebbe diviso i palestinesi e impedito che i palestinesi uniti tu non puoi dire che sei d'accordo con Emanuele Fiano sta dicendo facciamo un ragione ma Emanuele Fiano ha preso le distanze e tagliamo il nostro Parlamento il nostro governo fatemi prima di chiudere questo blocco a palo a concia volevo leggere non abbiamo neanche votato all'assemblea dell'ONU l'Italia si è a stelta sul riconoscimento dell'Ostratore qualche riga del buongiorno di Mattia Feltri questa mattina oltre il limite non so se l'avete letto come si chiede a Giorgia Meloni a proposito ha ritirato la querella a Luciano Canfora le fa onore di dissociarsi da ogni braccio teso di Casa Pau sebbene non appartenga alla sua maggioranza allo stesso modo si chiede a Elish Line di dissociarsi dalla piazza filo palestinese che filo palestinese non è di oggi sono pretese anche un po' stucchevoli è ovvio che all'una e all'altra i voti facciano sempre comodo ma anche quelli di gente poco raccomandabile ma l'ambiguità dovrebbe esserci un limite e mi stupisco lo abbia superato un uomo mite e ragionevole come Roberto Morassut del PD che ha definito comprensibile la manifestazione ma con una piattaforma parziale e limitata non credo l'abbia letta me lo auguro intanto le parola israele compare soltanto all'inizio per chiarire il significato di entità coloniale sionista e di lì in poi sarà soltanto entità come vi ho letto prima coloniale sionista ripetuta nella piattaforma che abbiamo letto ecco questo fa parte di questa ambiguità cioè c'è un personaggio politico rappresentante politico del PD mite e ragionevole come dice Mattia Feltri che però la condivido ma il manche torna il manche povero Veltroni però quelle rivendicazioni l'avrei fatta un esponente ancora del PD farlo io guarda che tutti i giorni parlate solo quelli che la pensano come te ma dai un coro in Italia sembra i media italiani sembra non succederà è una rapprezzatura ma nel PD c'è stata da molti anni dovremmo capire cosa ne pensavo parlate allora rispondiamo voglio commentare io sono molto d'accordo con Mattia Feltri c'è c'è un'ambiguità della sinistra che sono i miei fratelli io sono stata 30 anni dentro quel partito quindi oggi non faccio più politica ma sono i miei fratelli le persone a cui io voglio bene però non posso nascondere che c'è un'ambiguità che Mattia Feltri ha ha colto anche appunto il Roberto Morassut che io conosco bene siamo amici e siamo stati insieme chiedendo all'Hashlein una dissociazione cioè così come Meloni si è comportato in un certo modo quello che dicevo a lui dicevo ma se facessero i cartelli contro di tele estrema destra tu ti arrabbieresti allora nello stesso modo bisogna condannare queste cose e come appunto io credo che quella manifestazione che io sono assolutamente d'accordo io sono contro vietare tutte le manifestazioni però tutte le manifestazioni anche appunto di chi lontano mille miglia da me ma in quella manifestazione c'è quello che c'è stato scritto e cioè lì si ineggia la fiume al mare la distruzione di Israele è una piattaforma precisa tanto è Raimo tanto è che Raimo ci raccontava che una parte giustamente dei palestinesi ha detto io a quella manifestazione non ci vado vado a un'altra manifestazione in cui voglio dire delle altre cose probabilmente le cose che dice Fiano cioè ripartiamo dal futuro cioè cerchiamo le parole comune io sono d'accordissimo con questo sono una democristiana da questo punto di vista allora però il PD siccome deve tenere il piede voglio Dio non dico qualcosa di cattivo cioè lo dico con affetto il piede ha scritto Martia Feltri i voti servono i voti servono e quindi non deve dire però io non ci vengo a quella manifestazione perché avrei detto altre cose se aveste fatto una manifestazione in cui le parole d'ordine non erano quelle che non vuol dire non criticare Netanyahu condannare Netanyahu ma non condannare gli israeliani e gli ebrei che sono due cose profondamente diverse però il PD questa scelta non l'ha fatta e io sono d'accordo con Mattia Feltri c'è un rischio altissimo di infiltrazioni oggi il grosso pericolo è questo ne siete consapevoli? guarda io non ne ho contezza e ne ho avuto informazioni in questo riguardo se lo sa il governo io non ne lo so penso diciamo che gli organi preposti esatto quindi prenderanno i loro provvedimenti io voglio ricordare una cosa che l'intelligenza artificiale che usano per gli attacchi su Gaza prevede come è programmata anche questo non lo dica che fa che fa oggi l'intelligenza artificiale prevede che per ogni militante di Hamas se è un giovane militante si possono ammazzare 30 civili mentre se è un senior di Hamas 100 ed è quello che accade normalmente dato che Hamas è un movimento di massa non è un gruppino ma un partito sto cercando di capire che c'entra con oggi con la sicurezza di oggi niente però non dire più che sei d'accordo con Fiano perché tu non sei d'accordo un attimo che io mi sono appassionata che c'entra oggi con la sicurezza di oggi rispetto a questa notizia che sto dando che mostra perché arriviamo ad avere forse 200.000 non 40.000 morti e poi ti mando tutti gli articoli perché ci tengo mi fido del vostro impegno giornalistico e discutere se oggi ci sarà questo tizio o quell'altro a me sembra tutto così minimale è ovvio che la comunità palestinese che manifesterà i dodici è la mia parte io non ho capito l'intelligenza artificiale io ti ascolto a servo e capisco perché i comunisti credevano nella pravda perché sinceramente le vostre fonti no ma lei ha messo un concentrato di fake news no ma io non ho capito l'intelligenza artificiale le cifre la gecasa oggi allora velocemente perché devo chiudere è come il prezzemolo quando mi manda gli articoli ti chiamo ci mettiamo insieme e cerchiamo di capire perché sono tutti a statunitenza certo va bene devo chiudere esatto oggi ci sarà una manifestazione noi invitiamo a esserci anche il 12 manifestazione e io spero che ci sia una manifestazione enorme italiana proposta da italiana e italiani per la pace in Medio Oriente che contenga una piattaforma di condanna dei crimini che sta commettendo Netanyahu in questo momento e che chieda che ci sia una soluzione la soluzione allora però anche qui diciamo la verità Amas dall'inizio ha dichiarato nei tavoli che era favorevole a liberare gli ostaggi in cambio di cessare il fuoco permanente cosa che ha negato Netanyahu dicendo che lui continuava a bombardare fino alla distruzione di Amas Fiano promesso che ci riproviamo siamo perseveranti e andiamo avanti non sono diciamo percorsi semplici e lo sapevamo ma niente resistiamo grazie a Fiano grazie a Giubilei che ricordo va al suo mi viene convegno assemblea assemblea dei conservatori della conferenza grazie a Serbo grazie a Paola Conce adesso andiamo in pubblicità poi torniamo con un altro argomento allora eccoci tornati a parlare do il buongiorno in studio con noi Luigi Manconi buongiorno e del suo bellissimo libro uscito da pochi giorni la scomparsa dei colori un viaggio avventuroso e memorabile nel mondo di chi non vede il racconto di una perdida che si fa opportunità di conoscenza con Luigi Manconi che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita ai diritti ai diritti degli altri e questa volta invece è impegnato a parlare di se stesso e del suo diritto che è scomparso perché anche la vista è un diritto che un giorno se ne va è stato difficile raccontare questa scomparsa sì certamente perché ho dovuto parlare di me e non superficialmente cercando di andare nel profondo della mia esperienza di vita quella di una persona che diventa cieco a spingermi sono state tante motivazioni ma tra queste la consapevolezza che seppure io sono un cieco privilegiato perché non sono povero perché parlo e scrivo un discreto italiano perché ho risorse collaboratori amiche amici e famiglia e tanti invece nella mia stessa condizione non hanno risorse tuttavia la mia condizione è assai condivisa nel senso che in Italia ci sono due milioni tra i povedenti e i ciechi ma soprattutto ci sono cinque sei milioni di persone con disabilità e ancora penso che la gran parte di noi cioè dell'intera comunità nazionale abbia subito un danno nella sua vita un danno fisico come dicevo milioni di persone o un danno psichico che fa tutte queste persone in qualche modo private di un pezzo di libertà ecco io ho provato a dire a scrivere attraverso un racconto che la cecità è una tragedia per giunta irreparabile ma che non necessariamente la cecità deve determinare debba determinare disperazione e questo è difficile anche perché tu non nasci senza la vista questo accade invece progressivamente la perdita della vista credo circa un anno fa poi diventa la cecità totale arriva un anno fa per altri 15 anni tre lustri precedenti è stato un processo un progressivo calare e cadere in questa condizione di privazione perché vede la cecità comporta due perdite innanzitutto la perdita della bellezza e la perdita della libertà la perdita della bellezza ha tanti significati non vedere più i volti dei miei figli non cogliere un paesaggio non poter guardare un quadro non poter vedere le persone i loro movimenti i loro gesti perdita della libertà significa entrare in una condizione di minorità io sono oggi dipendente da altri qui però ho fatto anche un'importante scoperta io ho dedicato la mia vita tutta a perseguire l'autonomia l'indipendenza dopodiché ho scoperto proprio a seguito di questa privazione cioè di questa caduta ho scoperto che l'affidamento ad altri oltre ad essere una necessità può essere qualcosa di molto positivo addirittura un piacere lei ha detto che è una cecità che in qualche modo però può essere anche piena di luci e persino di colori quei colori che sono scomparsi poi sì questo è vero persino fisicamente il racconto di quando ad Alghero a Ferragosto insieme ad amici e familiari ero lì ad assistere ai fuochi d'artificio la faccia in alto a cercare in qualche modo il punto del cielo dove sapevo che i fuochi d'artificio sarebbero esplosi e però la consapevolezza che nulla avrei visto e tuttavia quando i fuochi d'artificio si accendono io sento sotto le mie palpebre nei miei occhi bui e spenti sento come rifrazioni lampi baleni luminescenze come se cioè all'interno delle mie pupille ormai morte tuttavia si realizzasse un gioco di rifrazioni di luci e questa è una cosa che dal punto di vista fisico ha avuto su di me un effetto dirompente però più in generale la condizione di cecità certamente ti offre risorse che non immaginavi di avere per esempio quella dell'udito io oggi ho una vita piena zeppa di musica ascolto musica tutto il giorno e questo è una cosa che produce sensazioni così intense che in passato non avevo mai nessuno lei racconta anche di come in qualche modo una bambola una bambola di sua figlia se non sbaglio la bambola polli polli misura in qualche modo appunto il deterioramento della vista perché? perché quando ho cominciato appunto a perderla la vista avevo un bisogno urgente furioso per certi versi di misurarne il deteriorarsi il decadere allora per tutto un periodo facevo ricorso al display dell'ora nello schermo di un forno in cucina e misuravo come giorno dopo giorno la mia capacità di leggere l'ora diminuiva poi ho scoperto la bambola polli che è meno di 10 cm di altezza e che quando la tenni sulla mia scrivania regalatami da mia figlia Giulia ne riusciva a vedere i tratti i tratti del volto il vestitino di gomma le fattezze i capelli via via ecco ho misurato come questi tratti si dileguassero li perdessi e questa bambolina è diventata una specie di amuletto che certo segnalava la mia caduta quindi il mio precipitare ma in qualche modo mi teneva a compagnia lei ha già detto e ho detto anch'io all'inizio di come la sua vita è impegnata nel nel battersi per i diritti degli altri e a un certo punto lei ci ha raccontato della sua perdita di autonomia e in questa perdita di autonomia evidentemente ha scoperto come possiamo dire la la prossimità no e mi vengono in mente le sue battaglie per i carcerati per le persone rinchiuse per le persone appunto che un'autonomia non hanno o non hanno più e in qualche modo la scoperta della prossimità in lei che cosa ha prodotto beh guardi intanto tengo molto a dire che io non mi sono battuto e non mi batto per i diritti degli altri mi batto per i diritti di noi tutti certo ha ragione di noi tutti non è una correzione ha ragione perché sono i nostri certo e che sono i nostri oggi sono degli altri domani possono essere sì io io ritengo che quando al gruppo sociale più discriminato che ci sia in Italia i rom e sinti vengono negati diritti primari garanzie fondamentali beh questo comporta una riduzione complessiva dei diritti dell'intera collettività se questa è la premessa mi viene in mente che la pena detentiva il carcere viene definito in termini giuridici privazione della libertà ecco io invito chi mi ascolta chi mi vuole ascoltare a pensare quale drammatica privazione della libertà sia per una persona tetraplegica vivere al quinto piano di un condominio e scoprire che l'ascensore non solo è rotto ma lo sarà per i successivi mesi certo ecco quale privazione della libertà soffrirà quella persona dico questo per dire che la questione della disabilità e la corrispondente questione dei diritti vale sul piano materiale in primo luogo l'italia ha dalla metà degli anni ottanta un'ottima legge sulle barriere architettoniche ma questa ottima legge è miserabilmente applicata o meglio è larghissimamente disapplicata poi ci sono gli aspetti che non sono legati alle condizioni materiali ma che sono le relazioni sociali il nostro paese credo di poterlo dire l'italia su questo è particolarmente indifferente ostile a vara il nostro senso civico che è notoriamente assai carente nei confronti delle persone con una qualunque forma di disabilità è assolutamente incivile grazie a Luigi Manconi vi ricordo la scomparsa dei colori naturalmente il racconto quando si scivola nel buio ma anche nel buio si possono trovare dei bagliori risorse e strumenti risorse e strumenti e poi insomma ci sono anche tanti racconti come quelli sull'amore per lo sport il calcio insomma è un libro che davvero merita di essere letto proprio per questa parte finale che ci indicava Luigi Manconi sono come i diritti sono cose che possono un giorno accadere a chiunque di noi grazie grazie Luigi Manconi la scomparsa dei colori grazie anche a voi adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break noi ci rivediamo domani mattina arrivederci